L'ultima truffa nella retina risale solamente a qualche settimana fa. La vittima molto probabilmente pensava di aver trovato l'offerta giusta per scaldarsi questo inverno facendo un grosso rifornimento di pellet, ma in realtà era caduta nella rete di un truffatore. Il prezzo trovato in rete infatti appariva molto vantaggioso addirittura con un risparmio del 30%, ma una volta pagati 30 pancali per una spesa di 800 euro la merce non è mai arrivata. Non si tratta purtroppo di una truffa isolata, probabilmente anche alla luce dei prezzi del pellet ormai alle stelle. Innanzitutto un elemento scriminante è il costo. Non può essere in un periodo di estremi rincari e di speculazione, diciamolo tranquillamente. Un prezzo molto inferiore alla media è già un campanello d'allarme. Dopodiché il rischio a cui si espone, ad esempio comprando da privati, è più ampio rispetto se si va a comprare da un'attività invece produttiva o commerciale. Verificare che l'attività produttiva e commerciale sia solida, come si può fare, è molto semplice. Non affidarsi solo ad internet, esistono quello che è il registro imprese, che è nato proprio a tutela dei consumatori e delle imprese. Verificare da quanto tempo si è a partita IVA, da quanto tempo è attiva la partita IVA. Se non vi siano strani cambi, ad esempio, di ragione sociale oppure di sede legale, e questo già ci doveva tenere un pochino più tranquilli. Verificare che il conto corrente su cui ci richiedono il pagamento, ad esempio, sia sito in Italia, che i sistemi di pagamento siano sistemi certi e trasparenti, quindi non vengono proposte ricariche o money transfer, ad esempio, o altre modalità.